A casa di Ale racconta i podcast di Alessandro Pellizzari.com, il mio blog. Oggi parliamo dell'amante part-time. In realtà dell'amante part-time ho discettato più volte sul blog nelle dirette, ma mi sentivo di dedicarle un podcast appunto mirato perché le amanti part-time si stanno moltiplicando a dismisura, soprattutto dopo i rientri dalle vacanze con la famiglia. L'amante part-time, lo dicevo nel titolo di questa registrazione, è l'amante più sfigata, è l'amante che deve veramente accontentarsi delle briciole che gli lascia il suo amato. Infatti a lei è destinato un tempo ben preciso che di solito è molto ridotto. L'amante part-time classica non può contare su notti insieme, spesso non può contare neanche su cene o serate insieme, troppo pericolose per lui che non vuole rischiare di essere sgamato dalla moglie. Figuriamoci weekend o addirittura pezzi di vacanze, questo mai. Conosco delle amanti part-time che stanno insieme al proprio uomo da due o tre anni e non hanno mai passato la notte insieme, non hanno mai fatto un weekend insieme, anche se più volte promessi. Sono amanti quindi che incontrano il proprio uomo sostanzialmente durante l'orario di lavoro. Gli incontri durano massimo due o tre ore e vengono consumati o sul luogo di lavoro se le persone si sono conosciute lì e il luogo di lavoro è un posto abbastanza sicuro per consumare. O in macchina, o in motel, oppure in casa di lei, se lei ha una casa disponibile o di qualche amico che si presta alla bisogna. Sono incontri fugaci in cui si deve concentrare tutto, il sesso e anche la parte sentimentale, chiamiamola così, del rapporto. Quindi sentimenti e sesso col timer. Sono incontri che possono essere più di uno alla settimana, mediamente, soprattutto nella prima parte della storia, perché lui è molto voglioso di sperimentare sessualmente. Ci sono amanti che non possono neanche farsi vivere con messaggi o telefonate durante il weekend, perché il suo weekend è passato con la famiglia e lui non vuole nessun tipo di interferenza, non permette neanche lo scambio di messaggi, proprio per trasformare il rischio di venire scoperto a rischio zero. L'uomo che meno si mette a rischio di essere scoperto, meno ama. Non tutte le amanti part-time nascono così. Molte amanti part-time non lo erano all'inizio. All'inizio della storia lui era molto più generoso, sia dal punto di vista di tempo che dal punto di vista di socialità. Qualche cena fuori si faceva, magari una notte c'è scappata. Poi quando voi vi siete innamorate e lui ha avuto modo di capire che aveva il coltello dalla parte del manico, ha iniziato ad allargarsi lui, con le sue pretese, e a restringere il vostro recinto. Quindi si è passati dalla cena alla pizza, dalla pizza al panino, dal panino alle briciole del panino stesso. E' per questo che ho intitolato questo podcast «L'amante part-time deve accontentarsi di una dieta fatta di briciole». Diciamoci la verità, ad alcuni di voi può essere andato bene all'inizio, soprattutto se siete sposate, una sorta di regime di questo tipo. Se lui è sposato e tu sei sposata, le notti, le serate e i weekend sono difficili da giustificare. Per cui la passione, l'amore e tutto quello che ne consegue possono essere, come dire, ristretti in momenti, ore, diciamo, da motel. Però, come dire, questa è una cosa che c'è all'inizio. Dopo sei mesi di queste cose qua, tendenzialmente o la coppia di amanti scoppia, oppure se va avanti diventa progettuale. Quindi, in qualche modo, uno dei due si innamora e vuole andare avanti, spera in un futuro. L'altro, magari, non è innamorato, ma dice di essere innamorato. Il problema è che le amanti part-time accettano, fin da subito o comunque presto, uno squilibrio enorme nella coppia. Chi decide è lui, lui decide quando, come e per quanto tempo. E poi si fanno, so giocare da cavolate tipo qualità e non quantità. Posso essere anche d'accordo sulla qualità e non quantità, però bisogna vedere quant'è la quantità. Se sono briciole, le briciole non sono mai qualità. Se mi dite che sì, andiamo via un weekend ogni tre mesi, ma è un weekend splendido fatto in un posto meraviglioso dove lui non risponde neanche al telefono, allora forse possiamo anche ragionarci. Ma l'amante part-time classica veramente è a dieta di briciole. E il disastro, e qui torno al discorso del post-vacanze, quando lui è tornato e vi ha convinto a riprendere la relazione anche se eravate incazzate nere, perché per l'ennesima volta si è fatto le sue vacanze con la famiglia, ecco, se ve lo siete ripreso al ritorno e siete di nuovo in regime di briciole, vi accorgerete che anche il numero delle briciole sarà diminuito, perché ogni volta che un uomo si accorge che voi accettate dei compromessi, quelli che chiamo rospi sempre più grossi, ve ne farà mangiare ancora di più e sempre più grossi. Quindi il vostro recinto, il vostro perimetro di amante si restringerà ancora di più, con varie scuse, il lavoro, il rischio, eccetera, eccetera. Sono cose che succedono anche alle amanti dopo che lui è stato scoperto, molti amanti che godevano di una situazione normale e addirittura privilegiata, quindi trattate come delle vere e proprie fidanzate con uscite serali, weekend e tutto quello che fa parte di un rapporto anche diamantato normale, sono state poi degradate ad amanti part-time, proprio perché lui non può essere più scoperto, c'è poco tempo, è controllato, eccetera. E quindi sono passate da amanti normali e mediamente felici ad amanti part-time e mediamente infelici. Un'altra particolarità del far fare l'amante part-time è che lui di solito deve sopperire a questa condizione molto triste, ti do poco tempo, risicato quando dico io e come dico io, proprio per farvi continuare a far la stampella al suo matrimonio e quindi a rispondere alle sue esigenze fisiche e psicologiche, molti di voi sono anche psicologhe e commercialiste gratis, che cosa fa lui per sopperire? La solita virtualata, cioè messaggi, telefonate, tanti messaggi, tante telefonate, tante dichiarazioni d'amore. Il virtuale che sostituisce il reale. Quindi in una settimana c'è un incontro di due ore e mezza in una stanza e per il resto ci sono 50 messaggi al giorno, 3 telefonate al giorno e via così. Questo fumo dovrebbe sopperire la mancanza di arrosto, perché poi quando questo fumo se ne va via l'arrosto è anche lui una bella briciola. Alcune di voi mi dicono che neanche lui dopo un po' di tempo riesce a far fronte neanche al virtuale, nel senso che diminuisce anche quello, si contrae anche quello, anche quello perde mordente, sia dal punto di vista di quantità che dal punto di vista di qualità. Al posto delle dichiarazioni d'amore un po' elaborate, un po' da poeta, arrivano gli emoji, coi bacetti e le frasette. È un altro bruttissimo segno, ma voglio dire la vita dell'amante part time, se non è quella richiesta da voi, perché anche voi avete un matrimonio da proteggere, quindi avete un amante perché il matrimonio non va bene, ma non a tal punto da farlo saltare in aria e quindi alla guerra come alla guerra, io ho poco tempo, tu hai poco tempo, io non posso uscire di sera, tu non puoi uscire di sera e va bene così, ma se voi siete single o siete delle amanti che si sono innamorate e sono disposte a far saltare in aria il matrimonio per convolare a nozze con lui, e lui vi ha detto che è anche il suo progetto, diventare amanti part time è veramente una brutta, bruttissima condanna. Cosa fare in questi casi? È difficile uscire da un amantato part time, soprattutto se ve lo siete ripreso più di una volta e ogni volta la situazione si è ripetuta o è diventata peggiorativa. Il mio consiglio è quello di, a questo punto, se avete toccato il fondo e rischiate di scavare, come dico sempre, di rivolgervi a un esperto o a più esperti. Ad alcune di voi può bastare il counseling, se c'è sufficiente volontà per reagire. Se c'è una dipendenza affettiva profonda, il counseling può non bastare e deve essere affiancato a una psicoterapia. Lo so, sono degli sforzi economici, però qualcuno ha detto che i soldi nelle vacanze sono quelli spesi meglio. Io vi posso dire che certi investimenti per la propria salute emotiva, che è una salute molto importante, anche rispetto a quella fisica, vale la pena di farci un pensierino. Bene, sulle amanti part time credo di aver detto tutto perché purtroppo è anche una condizione su cui non si può discettare molto. La povertà della vita dell'amante part time fa sì che anche quello che si può dire sull'amante part time non sia moltissimo. Purtroppo l'amante part time veramente finisce col prendersi le briciole un po' in tutte le sue situazioni. Quello che vi posso dire è che quando si esce da questa condizione si sta proprio bene. Un codice del silenzio, un no contact, un rifiutare un ritorno, fare veramente il funerale a lui come partner per il futuro dà una libertà grossissima perché voi pensate a una donna che è rimasta chiusa in una prigione di due metri quadrati che finalmente si apre alla vita, alla socialità e quindi prima o poi anche a nuovi sentimenti. Quanto sono felici le lettrici che mi dicono Ale, sono uscito da questa storia di amante part time e adesso frequento una persona di cui non sono innamorata ma mi sta facendo fare una vita normale. Ci vediamo il sabato e la domenica, lo posso chiamare quando voglio, usciamo alla luce del sole senza problemi. Che meraviglia la normalità, già che meraviglia mangiare normalmente a tavola e non doversi limitare alle briciole dovendo a volte raccogliere in maniera umiliante anche quelle che cadono giù dal tavolo. Cari amiche, reagite, reagite e se non ce la fate da sole contattatemi, la mia mail è anpellizzari.com. Prima di lasciarvi vi voglio ricordare una cosa importante, l'11 di ottobre, martedì, uscirei in edicola il mio giornale Starbene, questa volta un'edizione speciale perché io da intervistatore passo a intervistato e che cosa vi racconterò? Vi racconterò del mio nuovo libro dedicato a voi e quindi avrete modo di scoprire nel servizio in quattro pagine di Starbene il titolo del libro e i suoi contenuti. Da lì inizieremo a fare un percorso insieme fino all'uscita in libreria previsto per la fine di ottobre e al primo evento dove spero di vedervi tutte a Milano. Un abbraccio, questo era a casa di materiale racconta i podcast del blog alessandopellizzari.com.